Ciao amici di Taliatom Games, buongiorno e buon inizio di settimana. Lunedì 10 maggio, ci sono i giocatori in risalto, lo sapevamo già, erano i giocatori di Lazio e Roma. Rudy e Francesco hanno fatto un eccellente video per presentarvi tutti i giocatori, adesso io ve li rimostrerò. Vi devo dire però altre cose prima di vedere i giocatori in evidenza di Roma e Lazio. La prima è che io ho fatto anche un video sulle indiscrezioni che riguardavano indiscrezioni italiane di queste settimane, si parlava di un pool dedicato alla Serie A e di icone Roma. Allora il pool della Serie A era vero e oggi lo vedremo, mentre giovedì invece non ci saranno le icone Roma ma ci saranno le icone Arsenal, quindi un'indiscrezione vera, un'indiscrezione falsa. Come vi dico al solito appunto queste notizie c'è da prenderle con le pinze, a volte sono vere, a volte sono false e oggi c'è la conferma ineccepibile di questo, che non è detto che siano false ma non è detto neppure che siano vere. Poi arriverà anche la Cop Challenge che vi piace tanto o almeno a molti di voi 50.000 GP in regalo. Poi un'altra cosa molto importante, siamo arrivati a 7.500 iscritti, grazie a tutti davvero per esservi iscritti, se ancora non l'avete fatto fatelo così arriviamo presto a 10.000 e una promessa è una promessa. Da oggi, da oggi, nel canale Italia Talk Games, tutti i giorni troverete un filmato, farò proprio una playlist in cui cercherò di spronare Konami ad annunciare PES 2022. Non so se servirà a farli sbrigare, ma io mi sento di fare questa cosa, perché per tante ragioni, ve ne dirò una al giorno appunto, perché secondo me Konami dovrebbe annunciare quanto prima PES 2022 e come dire, ne parleremo appunto una volta al giorno e spero che voi seguirete questa playlist, questa nuova lista di, chiamiamoli, video podcast, perché ovviamente sentirete la mia voce purtroppo di immagini su PES 2022, ce ne sono poche. Quindi da oggi, come promesso, un video al giorno, fin quando Konami non annuncerà ufficialmente PES 2022. Basta l'annuncio, non è che deve far vedere il gameplay, eccetera, e mi fermerò. Ma fino a quel momento, tutti i giorni, sabato e domenica compresi, un video al giorno sul perché Konami dovrebbe annunciare appena possibile, già oggi, secondo me, PES 2022. Comunque adesso vediamo tutte le novità di oggi per MyClub. Domani spero di farvi l'antiprima di PES Master e mercoledì girerò l'icona che state scegliendo nel sondaggio. Già quando l'ho visto ieri erano quasi 500 i voti. Quindi chissà adesso a quanto saremo arrivati. Io girerò l'icona più votata. Non vi do spoiler. Vedrete tutto mercoledì. Mercoledì boosterò pure un po' di giocatori con tutti i preparatori che ho. Ma adesso andiamo all'oggi. Allora, prendiamo il recupero di resistenza e fanno sempre comodissimo. Io non sto giocando a PES. Prima avevo da fare con Returnal, adesso da fare con Resident Evil Village, che vi consiglio ovviamente su PlayStation 5. È davvero un gioco meraviglioso. Ma leggerete la recensione o vi ho mostrato i primi 30 minuti in video. Però, chissà adesso, dopo Resident Evil, magari mi prendo... Non c'è niente di nuovo di particolare. Si torna su PES 2022 oppure si tornerà per gli europei. Chissà cosa farà Konami anche per gli europei. Anche questo non lo sappiamo. Allora, il pool da collezione, come vi dicevo, era vero. È il box draw della serie A. Andiamo un po' a vedere i giocatori presenti. E qui proprio ci ha chiapato molto, quasi perfettamente. Perché c'è Ronaldo, Di Bala, Andanovic, non c'è Curibali. Scesni, Immobile... Ah no, c'è Curibali. Eccolo qui. Quindi proprio preciso. Questa indiscrezione era verissima. Chiellini, Lukaku, Devrai, Ilicic, Luis Alberto. Sané molto pool serie A non è, però vabbè. Sappiamo come vanno le cose. Blinkovic, Savic, Skriniar, De Ligt, Sancho, Ibrahimović, Bonucci, Dzeko, Mertens, Manolas, Eriksen, Angolana, Cerbi, Insigne, Brozovic, Zapata, Artur, Donnarumma, Martinez, Morata, Alexandro, Romagnoli, De Paul, Belotti, Betancourt, Fabian Ruiz, Sirico, Lucas Leva, Vidal, Mandzukic, Cajan, Perisic, Quadrato, Mugl e tanti, 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 tanti altri. Un pool, ecco, se siete tifosi di qualche spada specifica e volete proprio il giocatore, se no oggi come oggi, al 10 di maggio un pool del genere ha veramente poco senso. C'è ancora il pool da collezione, ci sono i giri gratuiti, fino a mercoledì, dopo giriamo, questo li giriamo, gli Iconic Moment li conoscete, sono quelli a Manchester United e poi, ecco qui, i giocatori Roma. Pellegrini 90, sicuramente niente male, il massimo parametro migliore è passaggio alla sua terra, 91, 30 livelli di crescita. Paolo Lopez, molto bustato, preso a PT 97, riflessi PT 97, 26 livelli di crescita. Mighitarian 88, qui il parametro migliore è controllo palla, 88. Per i tu, 26 livelli di crescita, qui il top, si è passaggio alla sua terra e calci piazzati, 88. Cristiante 87, il top è controllo palla e passaggio alla sua terra, tutti e due, 86, anche potenza di tiro, tutti aumenti di 6 punti. Kumbula, 86, 47 livelli di crescita, wow. E già è bello che è bustato, perché l'elevazione arriva a 88, 5 punti in più. Borja Maiorà, 85, 34 livelli di crescita, 87 in controllo palla. Gonzalo Villar, 84, possesso stretto 87, passaggio alla sua terra, 86. E basta. Andiamo a vedere i giocatori della Lazio. Ciro Immobile, 92. Bello che è bustato, Ciro Immobile, finalizzazione 94, potenza di tiro, 92, velocità 87, un signor attaccante con 21 livelli di crescita, comportamento offensivo, 93. Luisa Alberto, 91, il passaggio alla sua terra, sala 96 di base, con 21 livelli di crescita, possesso stretto 92, controllo palla 94, passaggio alto 91, un ottimo attaccante. Mininkovic, Savic 90, il controllo palla addirittura a 95, e poi tanti altri parametri, colpo di testa 94, 6 punti in più, 28 livelli di crescita. Lucas Leiva, 22 livelli di crescita, recupero palla 7 punti in più, aggressività 4 punti in più, 92, comportamento difensivo 90, un signor mediano da questi parametri, 22 livelli di crescita, Acerbi 89, qui diciamo che è uno di quelli che cresce meno, Acerbi perché vedo aumenti di due punti in vari parametri, quello meno bustato di tutti questa settimana. Correa 89, 4 punti in più in controllo palla, 4 punti in più in dribbling, 4 punti in più in potenza di tiro, e tanti altri più 4, 89, 26 livelli di crescita, Marusic 87, 5 punti in più in velocità, 5 punti in più in accelerazione, 5 punti in più in resistenza, 5 punti in più in contatto fisico, tutto il boost è importante, e soprattutto in forza, Unici è l'unico dove ha parametri in verde, 25 livelli di crescita. Pepe Reina, 7 punti in più in comportamento pt, 6 punti in più in presa pt, respinta pt più 6, 6 punti in più in riflessi pt, estensione pt, 6 punti in più, 16 livelli ovviamente, l'età di Reina è piuttosto elevata, 38, e quindi solo 16 livelli, cresce da 86, quindi non è proprio il top dei top, però anche Reina è bello che è boostato. Andiamo a vedere le challenge, come vi ho detto, arriverà la co-challenge durante i prossimi giorni, che vi piace tanto, andiamo a vedere se c'è altro, in questo momento, no, ci sono i team strength, sempre quelli, l'interattore online, che già ho fatto, quindi da questo punto di vista non c'è nulla di nuovo, e poi le challenge pt, ci sono le team challenge, vediamo i premi, 4000 per 2, torniamo proprio al classico, diciamo, niente più i boost di queste ultime settimane, e non ci sono neppure le challenge challenge, qualcuno se lo augurava, io ho detto, non lo so se torneranno, ma dopo due settimane consecutive, mi sembrava difficile, a questo punto ragazzi, io giro i miei due gold ball, e il mio giro pool gratis, e andiamo, vediamo che succede, l'Inghilterra, Andre Gomez, 81, direi che Andre Gomez lo possiamo subito, subito convertire in preparatore ESP, aumento familiarità, seconda goal ball, Italia, giocatore del Sassuolo, Berarti, già utilizzato come preparatore ESP, e anche stavolta, stesso esito, ok, andiamo con il pool da collezione, il mio giretto gratis ce l'ho, siamo a quasi 50 giocatori pescati, vediamo che succede, niente leggenda, niente Maradona, niente Zico, Turchia, wow, oh, bella il centone, Remiglio, Remiglio e Zambrano, wow, che trio, perfetto, beh, vabbè, diciamo in linea con l'aggiornamento di oggi, che sicuramente non è stato un granché, indubbiamente, perché, vabbè, dopo alcune settimane di legend e tutto quanto, solo due agenti squadra e nient'altro, è davvero poco, però, però, questa settimana, volevo solo vedere se c'erano novità, no, qui ci sono, è tutto a posto, è tutto fermo, dicevo, dopo due settimane di tanti regali, di giri, di legend challenge, diciamo che è una pausa, una tregua in attesa, a, di qualcosa di legato agli europei, manca oramai un mese, e beh, appunto, all'annuncio di PES 2022, comunque, di PES 2022, parleremo oggi, con il primo video, appunto, della serie, Konami annuncia per favore, PES 2022, che, come vi ho detto, ogni giorno, eh, darà una ragione a Konami, per annunciare quanto prima, il gioco. Io vi ringrazio per l'attenzione, come al solito, fatemi sapere che ne pensate, di questo aggiornamento settimanale, penso che sarete anche voi, molto critici, poi può essere, qualcuno lo vede diversamente, e ci sta, ci sta tutto, e, come vi ho detto, oggi parte questa, nuova playlist, da domani, speriamo di vedere, gli annunci di PES Master, perché, perché il 13, finalmente, dopo due settimane di pausa, che sì, ok, capisco le ricorrenze giapponesi, però non è che era questo lavoro, proprio, da stacano visti, mettere, il livello, la condizione dei giocatori, e creare una gente, con i giocatori della settimana, non era questa, questa morte d'uomo, però vabbè, ha ci ha dato tanto altro, Konami, quindi, ha ben compensato, quindi speriamo di avere, l'anticipazione di PES Master, poi mercoledì, prendo l'icona, che state scegliendo voi, insomma, seppur, di contenuti di PES 2021, oggi ce ne sono davvero pochi, di novità, di video da fare, c'è sempre tanto, e vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per essere arrivati a 7500 iscritti, continuiamo a crescere, arriviamo a 10.000 prima possibile, grazie ancora per l'attenzione, buon PES, e buona settimana a tutti, ciao. Ciao!